Il salone dell'auto di Torino al Parco del Valentino sarà una bella vetrina per Pininfarina che ritorna da Ginevra con un auto davvero particolare che verrà presentata anche in questa bellissima location all'aperto. Sì, finalmente abbiamo la possibilità di far vedere per la prima volta in Italia la H2 Speed che è un modello di vettura estremamente innovativa, vettura da corsa per la pista che speriamo di produrre in serie limitata al massimo a 10 esemplari, alimentata a idrodono con prestazioni straordinarie a 300 km orari di velocità, 503 cavalli e emissione nell'atmosfera. Non è soltanto di vapore e acqua, quindi è una vettura innovativa il cui stile è dettato dall'aerodinamica, ha tutte le caratteristiche secondo me del miglior stile Pininfarina. Com'è nata l'idea di quest'auto innanzitutto? Da cosa siete partiti? Noi abbiamo sempre realizzato dei laboratori in passato, in questo caso ci siamo ispirati alla Sima Grand Prix che era nata alla fine degli anni 60 per concorrere al miglioramento nel tema della sicurezza che era un tema molto rilevante in quegli anni per la Formula 1. In questo caso invece siamo tornati sul tema della mobilità sostenibile e della mobilità emissioni zero, nel mondo delle alte prestazioni abbiamo trovato un'azienda, un partner franco svizzero che è la Green GT che ha concorso con noi agli investimenti anche a livello tecnico, mettendo a disposizione la piattaforma elettrica, le celle di combustibile, tutta la catena di trazione e quindi abbiamo fatto una squadra internazionale Italo-Svizzera e presentato questo laboratorio che a Ginevra ha avuto un grandissimo successo di pubblico e di critica, nel mondo ha già vinto due premi come miglior vettura. Non sarà l'unica auto che presenterete al Parco Valentino? Ci sarà anche la BMW Gran Lusso che fu presentata a Villa d'Este nel 2013 e che è un esempio di quello che potrebbe essere o di quello che è il contributo della Pininfarina allo sviluppo del marchio, al prestigio del marchio BMW. Quest'anno BMW compie 100 anni e ci è sembrato giusto proporlo e siamo contenti di presentare questa vettura che rappresenta non solo i 100 anni di storia della BMW ma anche rappresenta una collaborazione molto importante nel settore dello sviluppo automobilistico che ha avuto la Pininfarina con BMW. Seconda edizione questa del Salone di Torino al Parco del Valentino. Quali possono essere le potenzialità secondo lei di questo evento? Intanto è un evento che contribuisce a mantenere alto ottimismo e positività e alimentare la passione per l'auto e questo è un bene per una cultura come quella italiana che ha fatto dell'auto un cavallo di battaglia importante per decenni. Poi aiuta anche a un modello economico che si muove attorno all'auto. Il mercato italiano non vorrei che lo dimenticassimo è il terzo mercato più importante in Europa, molto spesso è stato anche il secondo più importante dietro a Germania e Inghilterra. Quindi un momento come il Salone del Valentino è una grande opportunità per mettere insieme le novità di prodotto che fa passione e curiosità con il pubblico e la gente che magari adesso comincia anche ad avere voglia di cambiare macchina. Perché la voglia di cambiare macchina? Non dovremmo dimenticarlo che l'Italia circolano qualcosa come 36 milioni di vetture, un terzo di queste ha più di 14 anni di vita, 15 per l'esattezza. Che vuol dire che sono in quella soglia psicologica di dire ma forse è proprio il momento di cambiarla l'auto. In particolare vorrei dire che ci sono 1.600.000 vetture che hanno ancora le marmitte catalitiche che è una roba che la sua generazione non sa neanche di cosa sia perché erano troppo vecchi. Quindi avere del bel prodotto che venga presentato in una cornice qualificata come quella del Valentino, avere tanto pubblico che viene a vederle, incrocia una potenziale domanda con una potenziale offerta e da un contributo sicuramente al rinnovamento del parco. Voi avete anche il polso della situazione per quanto riguarda il mercato, i movimenti eccetera. Si sta effettivamente muovendo qualcosa? Ci sono dei segnali positivi? I segnali sono sicuramente positivi. Dico due numeri tanto per fotografare. Sono 22 mesi continui che il mercato ha finalmente ripreso dopo una crisi tremenda che ci ha attanagliato. In particolare negli ultimi tre ha viaggiato a doppia cifra e ha fatto dei numeri che non vedevamo dal 2010 quando avevamo ancora la fine degli incentivi. E quindi era un momento di forte effervescenza del mercato. Quindi è partito molto bene. Vero anche che è partito bene perché le case con i concessionari hanno messo ingenti risorse nel mercato per stimolare la domanda. Quindi hanno fatto delle offerte promozionali irresistibili. Veramente il momento migliore di sempre per comprare una vettura nuova. Adesso questo, sto un po' rallentando, però ha fatto un effetto lancio che ha incoraggiato il bisogno di sostituzione. E vediamo come va. Possiamo dare qualche dato positivo innanzitutto su quelli che sono i movimenti che si trovano all'interno del mercato dell'auto e questa filiera dell'auto che collabora, che dà vita davvero qui a Torino. Abbiamo sentito una ricchezza importante. Sì, assolutamente sì. Allora iniziamo a parlare del mercato. 2014-2015 segnali positivi dopo che nel 2013 avevamo toccato il fondo per cui non si poteva che risalire. Dovremmo chiudere quest'anno a 1.700.000-1.800.000 autovetture vendute. Siamo ancora molto molto lontani rispetto ai periodi pre-crisi. Però è anche vero che stiamo facendo un buon percorso di inversione del trend. Anche gli altri settori dell'automotive vanno bene perché i veicoli commerciali, i veicoli industriali rimorchi e semirimorchi hanno dato segnali positivi anche nell'ultimo anno e mezzo. L'altro dato secondo me interessante riguarda la produzione. Negli anni della crisi in Italia avevamo raggiunto volumi molto bassi di autovetture, autoveicoli prodotti. Finalmente nel 2015 abbiamo superato il milione di autoveicoli prodotti. Questo chiaramente ha portato un'influenza positiva in tutta la componentistica e tutta la filiera dell'auto chiaramente allargata. Lo dicevo nel corso dell'intervento nella conferenza stampa. L'anno scorso il più 1% della produzione industriale in Italia che abbiamo in qualche modo sventolato anche con soddisfazione è stato ottenuto fondamentalmente grazie all'influenza e all'impatto che ha avuto la ripresa della produzione industriale in Italia del settore automotico come dicevo prima. Parlando di filiera appunto dell'auto, in un momento di crisi questi piccoli, anche soggetti piccoli che si trovano all'interno di un territorio che collaborano a creare un prodotto si uniscono insieme, fanno sinergia secondo lei, hanno sfruttato la competenza comune per fare sistema? Ma guardi, forse l'unico effetto positivo di questa crisi è proprio stato quello di rendere consapevoli le aziende piccole, più che le aziende medie, proprio quelle di piccole dimensioni che è importante appunto fare sistema, è importante anche aggregarsi, che non vuol dire fare delle società uniche ma collaborare, fare delle partnership magari di tipo tecnologico, di tipo industriale per rimanere competitivi in giro per il mondo, perché ormai in questo settore non è più vero il detto che piccolo è bello ma probabilmente andava bene qualche anno fa, ma oggi per poter competere deve avere delle dimensioni comunque sicuramente più grandi. Allora o cresci internamente se hai la possibilità di crescere internamente oppure se per questioni diciamo storiche o di caratteristiche aziendali, se sei piccolo devi sicuramente cercare di aggregarti con altre aziende per fare maggiore massa critica e affrontare poi meglio quelle che sono le sfide della globalizzazione. Il nuovo Salone dell'Auto di Torino al Parco del Valentino è la seconda edizione, già l'anno scorso eravate presenti al Salone del Valentino e quest'anno come sarete presenti? Con che cosa, quali idee sono state concretizzate per questo evento? Ma innanzitutto quest'anno alla seconda edizione noi abbiamo deciso di essere presenti raddoppiando la nostra presenza quindi avremo quest'anno una pedana con il nostro progetto di punta che è il progetto del Master in Transportation Design che abbiamo presentato al Salone di Ginevra questa primavera e allo stesso stand parteciperà anche con la presenza di quattro ruote il modello dell'anno scorso sempre presentato al Salone di Ginevra. Però non contenti abbiamo deciso anche di progettare con il nostro ufficio di comunicazione una specie di allestimento che desse anche un po' vita come teaser dell'arrivo, dell'accompagnamento verso questa seconda edizione un allestimento che colpisce tutta la stazione di Porta Susa dove ci troviamo oggi e dove abbiamo appeso i migliori modelli dei nostri studenti degli ultimi vent'anni del corso di Transportation Design che teniamo qua a Torino e che quindi danno un po' anche una testimonianza di quello che è la dimensione della formazione all'interno del campo del Transportation Design della città che non è cosa degli ultimi due anni ma che per noi ha 25 anni di storia. Ecco, lo IED non tutti lo conoscono a Torino. Possiamo dire che cos'è e come si inserisce all'interno del panorama torinese della formazione? Ecco, quindi che cos'è e come si inserisce? Beh, lo IED innanzitutto si inserisce all'interno di un network di 11 scuole in tre paesi, in Italia, in Spagna e in Brasile a Torino esiste da 25 anni, IED ha 50 anni, è stato fondato proprio nel 1966 a Milano e via via è stata sviluppata una rete che ha poi delle peculiarità tipiche della città in cui si trova e quindi ovviamente a Torino 20 anni fa è stato intuito che era impossibile non avere un corso di Transportation Design noi ovviamente non facciamo solo questo, abbiamo una scuola di Visual Art con un corso di fotografia un diploma di laurea in illustrazione, in grafica, abbiamo un corso di Fashion Design, abbiamo pubblicità insomma abbiamo tutte quelle materie che potremmo definire oggi le lauree triennali riconosciute dal Ministero nel settore della creatività applicata. Poi abbiamo anche dei master, dei corsi, insomma il panorama dello IED sia a Torino che in generale in Italia è molto ampio ed è proprio un po' una specie di fucina di relazioni tra imprese, aziende, designer che insegnano e studenti che vogliono avvicinarsi al mondo della creatività che continua a rinnovarsi e da 50 anni lo fa, quindi se esistiamo da 50 anni è perché lo stiamo facendo molto bene. Grazie Grazie Grazie